ben ritrovati amici di auto occasioni un'altra puntata insieme direttamente da progetto in corso unione sovietica 141 a torino e ovviamente ad accogliermi lui sergio lai ciao sergio ciao elisa e un saluto a tutti i telespettatori uno staff qui da progetto assolutamente professionale soprattutto pronto ad accogliervi in piena sicurezza assolutamente elisa qui vi ricordiamo che le nostre vetture sono tutti e sono tutte igienizzate gli spazi sono tutti in massima sicurezza e poi tante le opportunità qui da progetto tantissime le proposte anche approfittando degli eco incentivi esattamente lisa mi raccomando a corrette numerose perché abbiamo di nuovo gli eco incentivi macchina quindi da rotamare con gli eco bonus statali veramente prezzi veramente interessantissimi addirittura arriviamo fino a un massimo di 14 mila euro per totale rottamazione con gli eco bonus e allora insomma cosa ci hai preparato per questa puntata allora partiamo innanzitutto dalla più richiesta chiaramente la panda la panda abbiamo una versione hybrid a partire da 8200 euro possibilità di finanziamento personalizzato corrate a partire addirittura da 99 euro al mese si può inserire anche furto incendio casco poi passiamo alla una di più richieste insomma davvero proposte imperdibili qui da progetto accorrete venite a scoprirle perché ovviamente tutte quante le proposte sono anche fino a esaurimento fondi esattamente gli eco incentivi sono ripartiti finalmente a gennaio però chiaramente come la scorsa volta settembre ottobre in due mesi sono finiti quindi accorrete che abbiniamo le macchine abbiamo macchine a telaio quindi in prontata consegna non solo nuovo qui da progetto ma anche chilometri zero e aziendali e ovviamente usato quindi andiamo a scoprirle insieme vi ricordo che in progetto in corso di una sovietica 141 troveremo anche le alternative al nuovo quindi auto aziendali e auto chilometri zero come ad esempio questa bellissima panda blu di blu bellissimo colore è una vettura aziendale a partire attenzione da 6950 euro qui abbiamo la possibilità di personalizzare il vostro acquisto con un finanziamento che va fino al massimo di 84 mesi inserendo anche furto incendio casco collisione estensione di garanzia dal progetto in consulione troveremo anche una bellissima 500 ne abbiamo vari colori e vari modelli questa per esempio una 500 mille due lounge 69 cavalli a pochissimi chilometri questa 18.000 chilometri del 2019 attenzione al prezzo a partire da 8.900 euro vi ricordo anche qui sempre possiamo personalizzare il vostro acquisto con finanziamenti fino al massimo di 84 mesi troveremo anche questa bellissima lancia y questa per esempio una versione gold anche questo vettore aziendale con pochissimi chilometri per esempio questa ne ha 17.000 anno sono del 2019 a partire da un prezzo veramente qua stratosferico 11.900 euro anche qui vi ricordo che possiamo sempre personalizzare il vostro acquisto con un finanziamento furto incendio casco collisione estensione di garanzia e il primo tagliando chiaramente noi diamo sempre il primo tagliando in omaggio ecco una delle più richieste per la famiglia una fiat 500 l questo nell'allestimento mirror e un 1.400 benzina chilometro zero in matricolazione 2020 prezzo veramente interessante a partire da 12.900 euro qui la voltura ve la omaggiamo noi è il primo tagliando anche compreso ricordo che da progetto in corso di 1.141 troveremo anche le alternative al nuovo anche multimarche per esempio questa è una nissan micra 1.500 DCI Tecna del 2018 chilometri 17.000 questo anche il navigatore prezzo veramente interessante 12.500 euro eccezionale per la famiglia anche questa bellissima Dacia Duster questo è un 115 cavalli 1.500 DCI 50.000 chilometri praticamente nuova 2019 13.900 euro il prezzo anche qui possiamo personalizzare il vostro acquisto con un finanziamento fino a 84 mesi alternative al nuovo appunto come abbiamo detto da progetto per esempio questa è una Renault Clio 100 cavalli la Intense GPL chilometro zero in matricolazione dicembre 2020 prezzo 15.500 euro abbiamo anche una vettura come la 500X molto molto richiesta a partire da 14.900 euro da progetto in corso di 1941 abbiamo anche vetture col marchio Jeep una delle più richiesta è questa Jeep Renegade ricordiamo a partire da 16.900 euro e sempre da progetto troveremo anche questo bellissimo Jeep Compass qui prezzo veramente interessantissimo a partire da 21.500 euro da progetto troverete anche il famoso marchio dello Scorpione quindi vetture Abarth come questa 500 a partire da 21.900 euro siamo giunti al termine di questa puntata avete visto davvero tantissime proposte interessanti sul nuovo l'usato chilometri zero e aziendali io vi ricordo che il gruppo progetto vi aspetta in totale sicurezza assolutamente vi ricordo in totale sicurezza le nostre vetture sono tutte igienizzate quindi potete venire assolutamente qui in tranquillità ricordiamo gli orari le aperture vi ricordo che da progetto vi aspettiamo tutti i giorni l'apertura dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 compreso la domenica mattino e pomeriggio insomma potete venire davvero quando volete io vi ricordo che il progetto si trova in corso Unione Sovietica 141 a Torino io Sergio ti ringrazio come sempre grazie a te Elisa e vi aspetto numerosissimi e io vi ringrazio come sempre alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti